sembra essere un nuovo caso george floyd quello che si è verificato di recente pensate a brooklyn center infatti pensate che un ragazzo di soli 20 anni di età di nome down right è stato fermato in queste ore di tempo da una pattuglia proprio a brooklyn center vicino a minneapolis e è stato fatto fuori da parte della polizia attraverso un posto di blocco che la stessa polizia ha deciso di realizzare di richiedere gli agenti avrebbero chiesto al ragazzo di mostrare i documenti hanno tentato di arrestarlo il ragazzo si sarebbe opposto l'arresto e uno dei polizotti presente quindi avrebbe estratto una pistola e avrebbe deciso di sparare al ragazzo in questione il ragazzo ha ricevuto il colpo il colpo di pistola ed ecco che è caduto per terra perdendo clamorosamente la vita è morto soli 20 anni di età era giovanissimo down right poteva vivere ancora di più poteva vivere ancora un po di anni invece la morte purtroppo di lui è sopraggiunta vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per la visione il ragazzo del ragazzo nero quindi un'altra etnia forse afro americano fatemi sapere cosa ne pensate datemi le vostre opinioni ci tengo la vera e mi raccomando don't write che tu possa riposare in pace amen